i voti. Resterò presidente fino a quando la situazione del Paese e delle istituzioni me lo farà ritenere necessario e possibile e fino a quando le forze me lo consentiranno. Fino ad allora e non un giorno di più e dunque di certo solo per un tempo non lungo. Confido così facendo nella comprensione e nel consenso di molti di voi.